Alessandro Di Battista, una giornata importante per il nostro paese, un discorso molto forte di Draghi in Parlamento. L'intervista con il suo ex collega di partito Luigi Di Maio, quali sono le sue riflessioni? Io sono molto preoccupato, non mi aspettavo minimamente questa invasione, ho delle idee diverse rispetto a quello che si sta facendo. Credo di avere il diritto di condannare totalmente un crimine, ovvero la guerra preventiva, perché l'ho sempre condannata in passato, quando la compiovano gli alleati, e oggi la critico, anzi la condanno in quanto crimine contro l'umanità e violazione di diritto internazionale commessa da Putin. Allo stesso tempo sono molto preoccupato, perché quando si inviano delle armi in uno scenario che a detta dell'ambasciatore, a breve, non si sa quando, verrà probabilmente del tutto conquistato dalla Russia, io provo il rischio, sento il rischio che tali armi magari finiranno alla Russia stessa, sento il rischio che determinate dichiarazioni, anche per l'amor di Dio, mosse da un sentimento di grande avversione, di grande tristezza, perché quei ragazzini che fuggono o che restano sotto le bombe potrebbero essere figli nostri, però temo sempre che in questo momento l'unica cosa che possa peggiorare la situazione sia buttare benzina sul fuoco. Se Putin è un folle pazzo, bisogna temere ancora di più una belva ferita, oltretutto a capo di una nazione, la cui opinione pubblica senz'altro in parte è contraria a Putin. Però guardate che la Russia non è tutta quella che viene descritta. Vi è una parte, ahimè, che sostiene quest'operazione militare. Vi è una parte, nel corso degli ultimi anni, che ha criticato Putin, pensati, in quanto troppo molle, troppo filo occidentale. Mi riferisco al Partito Comunista della Federazione Russa, alcune parti dei Dinaia Rassia, il Partito della Russia Unita, il Partito che ha il governo. Io dico che, occhio, occorre stare molto, molto attenti. Per me c'è ancora il tempo della soluzione diplomatica, il ministro Di Maio non era d'accordo. Mi auguro che lui abbia ragione, scusi un attimo, Floris. Mi auguro che tali sanzioni butteranno giù l'economia russa e che a breve, non lo so, si formerà un movimento di protesta capace di assaltare il cremelino come il palazzo d'inverno. Nutro dei dubbi. E dato che mi interessa anche l'interesse italiano, ma non solo economico, proprio alla sicurezza nazionale di fronte a un pericolo di una guerra nucleare, credo che in questo momento ci voglia particolare riflessione. Bruno Tabacci, sottosegretario della Presidenza del Consiglio. Mi è piaciuto molto la riflessione della partigiana Teresa Vergalli, che è una parola di grande serietà, di grande sobrietà. Sono pericolosi questi uomini soli al comando. Era bello solo pensare a Fausto Coppi solo al comando. È un pensiero molto forte e robusto. Per il resto, cosa vuol dire facciamo vincere Putin? Putin avrebbe vinto se ci fosse stata la replica dell'operazione Crimea. Ma così non è stato. Invadere un paese di 46 milioni di abitanti, come ha pensato di fare lui, immaginando che gettassero fiori, con un'arroganza che gli farà pagare un tributo rilevantissimo, questo non è vincere. Lui ha sbagliato i conti. In più, pensava di rompere l'Europa. Ma l'Europa è più vive, è più forte che mai. E' in una condizione di grande forza. Però sentito cosa dice Di Battista, attenti, che se gli va male rispetto a quello che aveva pensato, diventa ancora più pericoloso. No, ma ho sentito bene Di Battista. Il punto però è molto semplice. Noi non è che possiamo portare ai combattenti ucraini dei fiori o delle opere di bene. Dobbiamo aiutarli perché hanno chiesto di essere aiutati. E la responsabilità dell'Europa è di fare questo. Dopodiché Putin dovrà fare i conti anche con la resistenza ucraina. Natalia Kudryk è giornalista ucraina nata a Kiev, corrispondente di Radio Svoboda per l'Italia. Si sta dando comunque per persa la vostra nazione? Mi sento. Comunque data per persa la vostra nazione? Chi dà per persa? Le discussioni che stiamo facendo, come vince Putin, quanto può essere costosa la vittoria di Putin, come trasformarla in una vittoria di Pirro? Per ora io non penso così. Quando ho sentito il ministro degli esteri italiano mi hanno colpito le sue parole. Dice che per oggi dobbiamo sentirci tutti, siamo tutti ucraini. E una cosa per me sentire parole da Luigi Di Maio, non dico scioccante, ma questo vuol dire che gli ucraini oggi hanno cambiato visione del mondo completamente. Non solo che vediamo... Tutto il mondo, soprattutto rivolgo all'Italia, che prima non conoscevano questo paese dell'est, che era considerato una provincia della Russia, nonostante 30 anni di indipendenza, oggi sta cambiando il mondo. E quindi guardando anche la forte resistenza coraggiosa degli ucraini, non vedo completamente che il paese è perso e secondo me assolutamente non è giusto parlare oggi così. Soprattutto vedendo quando anche il presidente dell'Ucraina era considerato così comico, così debole, così quasi quasi niente in nessuno, è diventato una... praticamente tutti i grandi leader mondiali ora dicono che è diventato un grande statista. Si diventa eroi, non si diventa eroi. Ma ancora di più, è ancora di più che maggior parte, quasi più di 90% degli ucraini sono riuniti attorno a questo presidente. Sì, la gente sta nei bunker, la gente sta scappando, però ancora vive il sogno. Altri giorni abbiamo visto che in aeroporto Gostomel, che è stato bombardato, gli occupanti russi hanno fatto bruciare un grandissimo, modernissimo aereo Mria. Era un orgoglio dell'ingegneria italiana. Questo aereo si chiamava Mria, che vuol dire il sogno. E che cosa hanno detto ucraini e soprattutto rappresentanti di questa compagnia che lo ha costruito? Occupanti russi, nostri nemici, possono bruciare l'aereo, però il sogno europeo degli ucraini ancora non è bruciato e rimane vivo. Mi racconta Putin, mi racconta Putin come lo immagina lei, come lo vede lei? E' un grande, ma posso parlare, è comporta da grande barbaro, da un animale. E' anche difficile nominarlo, che questo è un presidente, un uomo, è difficile parlare, perché anche da quando è salito al potere gli ucraini hanno sentito dall'inizio che è cominciata questa politica di più forte soppressione. Anche se gli ucraini hanno scelto definitivamente il suo percorso europeo dopo 2004, quando è stata questa rivoluzione aranciona, quando finalmente gli ucraini sono stati riconosciuti nel mondo, sono stati famosi per questo, che hanno vinto in questa rivoluzione aranciona. Con tutte quelle, ricordiamo, piazze... Quello è stato il primo passo di allontanamento dall'area di Putin che non vi ha perdonato. Primo passo, primo passo serio, che è proprio con il primo presidente 100% filo occidentale, Viktor Yushchenko, che proprio la nazione è andata, ha preso dritta, dritta verso l'Unione Europea, verso il Nato. E là lui, nella sua mente, ha segnato là la necessità. Sì, perché anche dopo questo evento, se lei ricorda, Polonia e altri paesi del ex patto di Varsavia, e soprattutto Polonia, sono diventati promotori per questo percorso ucraino in Unione Europea. Allora, Renzo Foa, buonasera, già presidente della RAI, insegna alla Cattolica e a Lugano, e ci dice la sua opinione, su quanto abbiamo detto finora. Sì, sono Marcello e non Renzo. Marcello Foa, mi perdoni, se sei l'abitudine di... Prego, mi perdoni. Prego, prego. La mia opinione è che siamo comunque di fronte a un episodio che segna una doppia sconfitta, perché in termini strategici, chi ricorre all'uso delle armi è perdente. Noi viviamo nell'era delle guerre asimmetriche, delle guerre ibride, che si combattono senza sparare un solo colpo di cannone. Per cui, da questo punto di vista, Putin ha sbagliato e Putin di fatto ha già perso, perché ovviamente non è accettabile una soluzione militare di questo tipo. Però per la stessa ragione, paradossalmente, ha perso anche l'Occidente, perché un tema sensibile come quello dell'Ucraina e dei rapporti con la Russia andava gestito in un'ottica di prevenzione, in un'ottica anche di prospettiva strategica più diversa rispetto a quella che è stata scelta negli ultimi anni, e per cui il fatto che oggi noi si sia in una situazione così grave segna purtroppo anche una sconfitta che non siamo riusciti a impedire una guerra che forse poteva essere impedita. Ecco, per cui in questo momento c'è un sentimento di grande smarrimento. Io non sono convinto, contrariamente a quel che diceva il Presidente Massolo, che Putin possa vincere facilmente, perché l'unico modo per vincere facilmente è quello di bombardare le città a tappeto, e secondo me questo, se accadesse, sarebbe veramente la sconfitta definitiva di Putin dal punto di vista dell'immagine, e giustamente non credo che i russi accetterebbero che i loro fratelli ucraini civili possano essere bombardati impunemente. Questo è un punto estremamente sensibile. Prego Massolo. No, dicevo, facilmente accolti insopportabili, quindi finora non è affatto una vittoria facile, il problema è che è prevaricante, quindi prima o poi un successo sul campo in qualche modo è prevedibile che lo abbia. Il problema è che deve essere un successo, come diceva lei, di Pirro, nel senso che quanto meno prominente possibile... Dopo paghi. Marco Damilano, che è successo oggi in Italia? Beh, c'è stato un intervento di Draghi alla Camera e al Senato, la risoluzione votata all'unanimità dal Parlamento, che segna una svolta. Tu hai chiesto a Di Maio se l'Italia è in guerra. L'Italia di fatto è in guerra. Anche gli interventi di Draghi, sia quello di venerdì che quello di oggi, raccontano anche di una situazione di economia di guerra, sul piano energetico, sul piano economico, ha detto delle cose che segnano una svolta. In un paese, in un paese, ecco, mentre parliamo in questi giorni, io ho sempre in mente una ragazza che si chiama Olga Misik, l'Espresso la chiamò Persona dell'Anno insieme a Liliana Segre nel 2019, all'epoca aveva 17 anni, oggi ne ha 19, aveva una maglietta, io l'ho accompagnata in giro per Roma, aveva una maglietta, una felpa con delle sbarre su Mosca, è un numero 212, è l'articolo del codice penale russo che punisce chi manifesta in pubblico. Lei rischia anni di carcere perché leggeva la Costituzione in piazza, gli articoli sulla libertà di stampa. Mentre, negli stessi anni, in quegli anni, il presidente della RAI Marcello Foa faceva il commentatore per agenzie come Sputnik, come Russia Today, diceva frasi tipo in 18 anni non ho mai dovuto coprire una sola crisi internazionale provocata dal Cremlino, diceva che le rivolte in Ucraina hanno pianificate e guidate dall'Occidente. Oggi il Parlamento vota all'unanimità, ma il partito di Putin, in questa legislatura, e lo dico anche a Alessandro Di Battista, ha avuto per anni la maggioranza, infatti ha nominato Marcello Foa presidente della RAI proprio perché aveva quel curriculum, non nonostante quel curriculum. Allora, oggi si cambia, c'è una svolta politica, bene, ma noi non possiamo dimenticare, perché se no ripartiamo sempre da zero, lo dimentichiamo tutto. Marcello Foa, non lo sapevate chi era Putin all'epoca? No, guardi, io rifiuto questo tipo di ragionamento, di approccio. Marco da Milano sempre ha avuto un atteggiamento che non posso che accettare, biasimare, non posso accettare in nessun modo questo tipo di critica, di approccio. Io sono venuto qui per parlare di strategia, dei problemi della Russia, non per essere messo sotto accusa con accuse infamanti da parte di Marco Leal. Ma lei oggi parla a nome di Russia Today, a nome di chi parla? Senta, guardi, io non sono stato commentatore di Russia Today, assolutamente, semplicemente se mi viene chiesto, in passato mi è stato chiesto, come mi chiedeva dalla CNN, di fare dei commenti, io li avevo in BBC, io li facevo, allora vuol dire che uno... ora lei, ma senta, ma scusi, ma francamente lei mi sta cercando di attribuire delle cose... Ma le ha dette queste frasi che io vedo? No, sai cos'è Marco? Diciamo, non è tanto personalizzare il tema, no, probabilmente non è neanche la tua intenzione. Ma me lo trovo davanti, diciamo che lezioni da Marcello Foa questa sera faccio fatica ma la domanda e vado su Alessandro Di Battista. Queste affermazioni sono scandalose, queste affermazioni sono scandalose e non le posso accettare, questo è vergognoso, è il suo comportamento. No, sono scandalose delle affermazioni che lei non ha smentito di aver fatto, fine. Ci sono, vado da Alessandro Di Battista, quella domanda fondamentalmente che facevo prima a Di Maio, ma non lo sapevate quando lanciavate la monetina e non lo sapevano Salvini, Meloni, anche molti esponenti del Movimento 5 Stelle che quello non era un modello alternativo all'Europa, ma quella era semplicemente una dittatura. Allora il tema che solleva da Milano al di là delle personalizzazioni c'è, cioè Putin è stato un modello. Oggi Draghi ha detto una cosa importante, talmente importante che vuol dire che siamo in un momento molto grave. Ha detto, guardate, adesso dobbiamo stare uniti e non inseguitevi con le dichiarazioni che avevate fatto perché non è il momento per farlo. Eppure una riflessione sulla efficacia, sulla responsabilità della nostra classe dirigente può essere lanciata come anche ha fatto da Milano. Di Battista, poi Sallusti e poi andiamo sul terreno con Politi. Da Milano fa il giornalista che ha il dovere anche secondo me di inchiodare i politici su dichiarazioni precedenti. Però a me quello che più preoccupa, ripeto, in questa fase è la prima frase che ha detto da Milano. L'Italia è in guerra. Ora, la prima cosa che ci interessa oggi è accusare i politici a cominciare da coloro che si sono messi la maglietta di Putin su Krasnaya Plosha tanti anni fa o provare a capire che ci possa essere un'altra soluzione per arrivare evidentemente a un cessato del fuoco che possa essere meno violento rispetto a aspettare oppure mandare delle armi. Io penso questo. E dato che reputo che oggi l'unica entità, perché poi non è un paese, ma è proprio un'entità politico-economica che possa far cambiare idea a Putin sia la Cina, oggi io, se fossi e non lo sono un leader europeo, farei due cose semplici. Uno, incaricherei la persona invece, non l'entità, la persona per me maggiormente ascoltata da Putin che è anche il politico più autorevole che abbiamo avuto in Europa negli ultimi vent'anni, che si chiama Angela Merkel, che conosce un modo di ragionamento post-sovietico perché ha vissuto in Germania Est, perché parla correntemente in russo, perché ha condiviso la Germania Est gli stessi anni in cui Putin lavorava come agente del KGB a Dresda. Credo che lei sia la sola oggi che possa evidentemente coinvolgendo la Cina, scusi Floris perché sono questioni molto importanti, francamente... Siccome la Merkel ha paura i cani, Putin l'ha ricevuta con un alano. Non ho capito. Allora, la Merkel è così politico. D'accordo, dell'alano. Per capire Putin quanto ci tiene. Scusate, vorrei finire un attimo il ragionamento perché sono questioni serie molto più, secondo me, della maglietta che ha portato Salvini perché, ripeto, un giornalista autorevole dell'Espresso dice che l'Italia di fatto è entrata in guerra in economia di guerra. Ergo, questa è una mia proposta perché penso che sia la cosa più utile anche perché, Floris, e ribadisco, un tempo vi era una vicinanza ovviamente che gli Stati Uniti d'America che hanno cercato politicamente di contrastare tra Germania e Russia e mi riferisco al Nord Stream che per me anche questa è una vicenda molto da analizzare anche sull'inasprimento dell'escalation di oggi che nessuno al mondo può mai giustificare ma lo possiamo solo condannare e credo che dato che quel tipo di accordo è stato fatto da questi uomini politici che questa possa essere una soluzione prima che sia troppo Alessandro Sallusti la tua opinione poi andremo a vedere lo stato della trattativa le prospettive con anche la Cina e quello che sta succedendo sul terreno Sallusti Ma io penso che di Battista e Foa sono un po' come Chamberlain nel 38-39 quando pensava che Hitler avrebbe si poteva riportare Hitler alla ragione e quindi che bisognava trattare altranza poi la storia ha insegnato che non è possibile perché contro i dittatori folli criminali e delinquenti perché Putin è un criminale e delinquente ancora prima che un presidente non si può trattare quello di ricostruire le colpe del perché si è permesso a Putin di arrivare fino a lì sono le stesse quelle che ancora adesso discutiamo perché si è permesso a Hitler di arrivare fino a lì sta di fatto che si è permesso e che adesso bisogna scegliere da che parte stare e l'ambiguità di Di Battista e di Foa sono un'arma per Putin quella di seminare il dubbio di Vides quando scoppia una guerra perché vede lei tutti i suoi bei discorsi di Battista e lo dico anche a Marcello Foa andateli a fare alle madri e agli anziani ucraini che in questo esatto istante sono sotto le bombe che gli vengono sganciate sulla testa senza nessun motivo andateli a farli a loro che bisogna discutere con Putin bisogna trattare guardi Di Battista se lei oggi è un uomo libero che può dire quello che dice e perché i suoi padri i suoi padri no ma i suoi nonni i suoi bisnonni hanno combattuto delle guerre combattere una guerra è la cosa più orribile che ci sia ma la sua libertà è figlia di chi ha messo a rischio la propria vita per dare a lei oggi la sua libertà se lei non può fare questo per i suoi nipoti è un problema suo ma non coinvolga tutto il paese Di Battista allora io credo che questo modo di scimmiotare dei ragionamenti non sia serio in una fase del genere io lo dico direttore uno perché se lei dovesse andare a parlare di coloro che non l'ho mai interrotta anche quando faceva delle accuse dovesse iniziare ad andare a parlare a coloro che hanno reputato Putin un sincero democratico potrebbe andare a parlare con il suo padrone non certo con me per quanto riguarda invece quello che ho detto poc'anzi io poc'anzi ho detto che reputo non mi interrompa ho detto poc'anzi che quello che io reputo oggi fondamentale lo dico io per lui insendeva Berlusconi ce l'ha politicamente quello che io dico che oggi credo ma questo è il mio padrone non è il mio padrone lei ha detto una cazzata sì sì va bene posso andare avanti non ha mai attaccato il suo padrone quando diceva delle frasi attacca a me ambasciatore non pensa che Putin si muova soltanto grazie ad una copertura cinese non lasciamo le cose in mezzo sulla gola anche Berlusconi naturalmente le foto sulla Dacia a giocare con Dudu a Palazzo Grazioni ricordiamo tutto dice Di Battista al di là delle insulti che vi inviterei a non ripetere dice perché all'epoca non gliel'ha detto a Silvio Berlusconi quella è l'accusa l'insulto Floris l'insulto è dire che io ho un padrone che è sbagliato anche tecnicamente perché io non lavoro per Berlusconi ma a parte di quello l'insulto è suo che quando ma come lui fa propaganda lui sta lavorando per Putin per un assassino delinquente criminale stai da quella parte lì siete uno a uno andiamo sui fatti di Battista riprendo non ha aperto bocca è accettabile avere un pensiero diverso in un paese libero è accettabile considerare lo diceva l'ambasciatore Massolo che capisce anche gli servizi segreti che tu hai un'idea diversa d'accordo è accettabile ambasciatore pensare che oggi evidentemente se la Cina dovesse immediatamente smettere di dargli copertura politica economica Putin si dovrebbe ritirare all'istante e aggiungo ambasciatore Massolo è ipotizzabile che la Cina faccia qualcosa che non ha già in mente di fare ma la convinciamo noi dunque io credo che non bisogna è vero che in situazioni di tensione internazionale gli autocrati fanno combutta tra loro però non è un'evidenza un sillogismo così semplice dire che la Cina protegge Putin altrimenti Putin non avrebbe potuto fare quello che ha fatto nel senso che la Cina è anzi un po' a disagio per questo genere di comportamenti di Putin e oggettivamente oggi ha preso un minimo di distanza detto questo è come dicevo prima l'idea che da tutta questa situazione possa scaturire un allineamento che io continuo a considerare non naturale fra Pechino e Mosca un po' più forte di quanto non è stato fino adesso questo credo che sia sotto gli occhi di tutti ed è un'altra delle ragioni per le quali noi non dobbiamo favorire un eccesso da parte di Putin dobbiamo frenare Putin lui vuole riscrivere la storia del dopo guerra fredda un conto è riscriverla un conto è cambiare chi ha vinto la guerra fredda professoressa Simona Colarizzi insegna storia alla sapienza si può tracciare il parallelo tra Putin e Hitler naturalmente no perché non si possono tracciare dei paralleli storici in modo così piatto indubbiamente si tratta sempre di la storia si ripete nel senso che le potenze si continueranno a confrontare che diciamo i dittatori e anche io ho apprezzato molto le parole della resistente che abbiamo sentito che i dittatori ci sono e che ci sono ovviamente delle questioni da ricordare che sono importantissime perché nel momento in cui nel 38 ci si siede al tavolo i grandi della terra i potenti si siedono al tavolo di quella che non è una trattativa in realtà è un ultimato senza dubbio e cedono beh queste poi ci sono le classiche parole di cioè il parallelo si può fare con noi non tanto tra Hitler e Putin quanto noi abbiamo reagito con noi sì perché Cecilia si collega in condizioni come sempre molto difficili ma ha una notizia mi dicono prego Cecilia che non si sente non si sente neanche a casa o non si sente solo qua mi sentite? ecco ora sì prego vai ecco c'è stato un tentativo nella regione di Kiev qualche minuto fa almeno la notizia è stata data dal consiglio di sicurezza ucraino qualche minuto fa del presidente Zelensky del presidente ucraino da parte di paramilitari ceceni che combattono per i russi che erano infiltrati qui da tempo che sono stati uccisi tutti il presidente è in salvo ma questo è il piano dei russi decapitare il governo di Kiev l'idea era quella di accerchiare la città prendere tutti i punti strategici intorno al perimetro della capitale e decapitare il governo questa previsione è stata fatta molte volte nel momento clou un tentativo di uccidere Zelensky da parte delle truppe ceceni che è stato fortunatamente bloccato non sarà l'unico vero ambasciatore beh la tentazione è forte per l'invasore allora vi chiedo pochi minuti e ripartiamo con Lutwak Donghi Politi pochi minuti pubblicità alessandro Politi direttore nato di France College Foundation cartello 20 lo stato della guerra la mappa guardate qua allora ci spiega cosa sta succedendo e a che punto siamo questa è una mappa come dire ripresa da tante altre la cosa fondamentale è al momento non tanto Kiev nonostante come dire ci sia Zelensky ma è il sud bisogna vedere quanto quanto sarà efficace la presa di Mariupol per creare un corridoio tra la Crimea e il Donbass perché questo anche come dire la vedete in basso a destra la città che diciamo separa è nell'anello che separa il Donbass dalla Crimea già russe diciamo e quella città diventa centrale perché? perché da un lato permette di ottenere un vantaggio tangibile anche in un cessato il fuoco perché a questo punto consolida la presa sulla Crimea non ci dimentichiamo che una delle prime richieste della controparte russa è stata quella di riconoscere legalmente l'annessione al Crimea da parte dell'Ucraina che insomma abbastanza irricevibile ma indicativa è il primo risultato che possono portare a casa? potrebbe essere un risultato abbastanza concreto insieme al scardinamento almeno logistico delle truppe che sono state schierate da parte delle forze armate ucraine intorno al Donbass che forse sono la parte come dire più efficace dell'esercito regolare dopodiché naturalmente ci sono tutti gli interessi concentrati su Kharkov su Kiev sapendo benissimo che prendere una città è una delle cose più difficili in qualunque guerra ora la scelta è se fare delle operazioni speciali come forse si è tentato non so se siano ceceni o no insomma in tempo di guerra sono estremamente prudente prima di vedere insomma chi come che unità eccetera però anche se fosse stato ucciso Zelensky malauguratamente questo non risolveva il problema Zelensky è un vice gli stati moderni continuano anche se il capo è ucciso può essere come dire un buon motivo per proclamare vittoria perché così è utile per l'opinione pubblica interna ma la guerra può continuare non c'è nulla di nuovo in tutto ciò l'altro mezzo invece è molto più brutale ma è ripeto vecchio quanto la seconda guerra mondiale si parte si creano dei corridoi distruggendo o comunque penetrando casa per casa palazzo per palazzo il problema è che quando si distruggono i palazzi si crea un ambiente ancora più destrutturato dove i difensori si annidano meglio però questo i russi a Grozny lo hanno fatto vedere a casa e hanno deciso di pagare però quel prezzo il prezzo sarebbe comunque molto alto dubito che come dire un governante come Vladimir Putin si preoccupi dell'immagine ma certo si preoccupa dei costi anche perché una parte delle sue truppe sono coscritti e quando muoiono i coscritti come dire il peso interno di questi morti è maggiore che non con un professionista gente che non aveva accettato l'idea gente che serve la patria ma poi bisogna vedere come e con quanta convinzione e poi soprattutto a casa come tutti sanno a cominciare dai nostri amici americani quando tornano le bare allora Edward Lutbach il peso io le chiedo non solo il peso di questa guerra per Putin e per Biden ma ora abbiamo elaborato durante la pubblicità un cartello che ci fa vedere quanti sono gli amici di Putin in Italia stessa cosa Trump ha da poco mi pare definito un genio Vladimir Putin stessa cosa succedeva negli Stati Uniti allora se guardate il cartello 101 mi pare che sia abbiamo chiaro il quadro allora Matteo Salvini nel 2015 a Mosca si fa fotografare alla Duma e al Cremlino con la felpa no sanzioni alla Russia poi la foto al Parlamento Europeo con la maglietta di Putin e la didascalia cedo due mattarella in cambio di mezzo Putin ancora Salvini preferisco Putin all'Europa poi 2017 se avessimo un Putin anche in Italia staremmo sicuramente meglio ancora se devo scegliere vi lascio la Merkel mi tengo Putin tutta la vita quindi spero che Trump Putin Le Pen possano fare qualcosa di utile per la democrazia e la pace nel mondo 2003 Silvio Berlusconi ritratto nella Dacia presidenziale col colbacco poi mentre giocano con il cane Dudu nel 2013 nei corridoi di Palazzo Grazioli poi definisce il presidente russo una persona sensibile un vero guerriero della libertà e della democrazia poi abbiamo Beppe Grillo 2017 Putin è quello che dice le cose più sensate sulla politica estera Giorgia Meloni 2021 scrive nel suo libro che la Russia è parte dei valori europei e difende l'identità cristiana il fascino di Putin professor Lutwak e cosa pensa di portare fuori ora da questa terribile guerra la guerra cambia tutto la Germania che era pro-russa ha cambiato il 100% perfino i finlandesi neutrali da sempre mandano razzi anticarro in Ucraina che stanno arrivando proprio adesso tutti si stanno muovendo la Norvegia la Finlandia la Germania l'Inghilterra paesi spero anche l'Italia sta mandando velocemente razzi anticarro di quelli che si puntano e si sparano armi leggere armi facili da usare adesso la guerra è appena cominciata come voi sapete la colonna russa finalmente con un ritardo di molti giorni è arrivata alle porte di Kiev questa colonna avrà non più di 45 mila 50 mila soldati che sono ben pochi per entrare in una città che è di 2 milioni e mezzo che si è riempita negli ultimi giorni di questi missili arrivati e soprattutto le armi utilizzabili dai civili come il razzi anticarro le armi leggere che stanno arrivando e che stanno equipaggiando la gente io sono stato in guerra e so che ci sono certe armi che uno può prendere e sparare altre armi ci vogliono mesi di addestramento quello che sta arrivando in Ucraina da tutti i paesi volontariosi sono quelle armi di primo tipo quindi Kiev non è ancora stata attaccata ci sono stati isolati missili contro un obiettivo o un altro ma la città è intatta praticamente intatta piena di gente che vuole combattere che hanno questi edifici molto utili di cemento armato che come politica ha indicato diventano ancora più formidabili se li colpisci e quindi Putin pensava di fare una marcia trionfale essere già stato applaudito a Kiev oggi se non prima invece si trova all'inizio della guerra allora aspetti professore è stato già obbligato a negoziare ecco in questo quadro arrivano le azioni sullo SWIFT Elena Donghi ci spieghi cos'è lo SWIFT la Russia è una delle tante batoste uso questa parola che la Russia ha preso da tutti i paesi che si sono uniti perché è stata di fatto esclusa non tutti gli istituti finanziari da tutte le transazioni internazionali di pagamenti internazionali fondamentalmente per spiegare in modo semplice quando io devo fare un bonifico io in Italia all'estero devo dare il Liban del destinatario questo SWIFT che ha un codice di 11 punti attraverso il quale io posso effettivamente effettuare il pagamento questo SWIFT viene dato agli istituti finanziari e alle banche se la Russia viene tagliata fuori non è nel circuito di pagamento internazionale non si riconosce l'economia e questo io dico solo una cosa per chiudere forse il cerchio rispetto a tutto quello che è stato detto oggi mi manca la parte di cosa si vuole fare subito per fermare Putin perché io credo che Putin abbia perso a livello diplomatico quando si è visto l'Europa l'America ed altri paesi compatti contro di lui ha perso a livello economico perché con lo SWIFT visto che abbiamo parlato dello SWIFT le sanzioni economiche a lungo andare l'economia della Russia è assolutamente penalizzata che è già un'economia povera perché è basata sulle materie prime gas e non solo se non ha più l'export a chi vende le sue materie prime però adesso come fermarlo visto che nonostante i dialoghi continua a bombardare questo passa anche per capire la testa di Vladimir Putin che ora è il tema che ci porremmo voleva dire una cosa giustamente Natalia Kudrik volevo replicare riguardo a quel discorso quando parlavano chi era commentatore di Russia Today e qua discorso non solo tra i politici ma anche diversi ambienti culturali e anche mass media perché ricordo che anche quando in Parlamento italiano c'erano audizioni riguardo a questioni di prigionieri politici che uomini di Putin tengono in Crimea o tengono in Donbass quelle torture atroce che stanno facendo lì ultimi otto anni e arrivavano in Parlamento italiano proprio parenti di queste persone e raccontavano la verità la sala in Parlamento era quasi vuota c'erano qualche giornalista ucraino qualche attivista e poi organizzatore ma nessun partito deputati italiani non erano tanto interessati poi per quanto io so neanche parlamentari italiani non facevano neanche interesse andare perché stanno parlando gli ultimi sei giorni ma la tragedia è cominciata otto anni fa parlamentari italiani non avevano tutto questo interesse neanche andare e vedere e capire che cosa perché bisogna domandarsi sul ruolo che ha avuto Putin in Italia ora ne parleremo con Roberto Saviano che ci spiegherà probabilmente il profilo della persona ma prima vi voglio far vedere è andato un documentario molto forte su Atlantide mercoledì scorso domani ci sarà la seconda parte il profilo di Putin tratteggiato da un grande regista da Oliver Stone guardate ne abbiamo scelto alcuni passaggi dicono che lei voglia essere lo zar questo è quello che dicono i giornali e le riviste con le loro copertine ma a lei fanno ridere giusto? sì ma restano legati a certi stereotipi tre volte presidente hanno provato ad ucciderla cinque volte le dirò un vecchio detto russo chi è destinato ad essere impiccato non morirà annegato lui ha detto che lei è molto irrazionale ogni volta che le fanno una domanda è perché passa delle brutte giornate dico bene? non sono una donna non ho di quei giorni è entrato subito nel KGB se non sbaglio era il 1975 io ero obbligato ad andare a lavorare lì ma mi stava anche bene se ho scelto giurisprudenza e studiato legge è proprio perché volevo entrare nel KGB la NATO per quanto mi riguarda è un reperto del passato attualmente la NATO è uno strumento della politica estera americana non ci sono alleati ci sono solo dei vassalli e noi cosa dovremmo fare? è evidente la necessità di contromisure quindi ecco spiegati i nostri nuovi sistemi missilistici e via così con l'escalation non abbiamo annesso la Crimea sono stati i suoi cittadini a decidere di unirsi alla Russia l'Ucraina ha perso la Crimea non certo per un'azione di forza della Russia ma per una libera scelta della popolazione della Crimea popolazione che non ha voluto vivere sotto il nazionalismo noi abbiamo molti legami con l'Ucraina non siamo solo vicini al popolo ucraino ma posso posso dire che siamo praticamente un unico popolo io sono convinto che in futuro arriveremo a prendere decisioni che oggi non possiamo neanche lontanamente immaginare sono certo che ci saranno nuovi problemi che noi dovremmo risolvere dovesse esserci una guerra l'America dominerebbe sì o no 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 sarebbe la Russia quindi a sopravvivere non sopravviverebbe nessuno allora ricapitoliamo tra vecchi e nuovi Alessandro Di Battista vi ricordiamo in libreria con contro Carlo Cottarelli buonasera economista osservatorio per i conti pubblici sempre con noi Bruno Tabacci sottosegretario alla presidenza del consiglio Gian Piero Massolo presidente ISPI David Parenzo giornalista in onda su questa rete e la zanzara su Radio 24 Pietro Senaldi con direttore di Libero benvenuto benvenuta Evelina Cristi Len imprenditrice membro del consiglio della FIFA la federazione internazionale del calcio Alessandro Genovesi segretario generale file a CGL e Nona Michelizze istituto affari internazionali Carlo Cottarelli stanno funzionando le sanzioni o almeno hanno una logica? se stanno funzionando è troppo presto per dirlo chiaramente la logica c'è la logica è quella di dire mettiamo sanzioni che massimizzano la perdita per la Russia e minimizzano il costo per chi impone le sanzioni perché poi le sanzioni è sempre quello comportano un costo anche per chi le impone allora si è sfruttato quello che è il vantaggio comparato dell'Occidente concentrandosi sul sistema finanziario della Russia bloccando l'accesso a Swift che è il sistema dei pagamenti ne avete già parlato per alcune banche russe però per esempio non includendo la banca attraverso cui si fanno i pagamenti per il gas e appunto non si sono messe sanzioni sulle importazioni di gas che sarebbero state molto dannose per noi forse la misura che è più forte è il blocco delle riserve della banca centrale russa perché quelle sono le riserve con cui la banca centrale può comprare le cose di cui ha bisogno la Russia l'impressione è che queste cose nel loro complesso abbiano un effetto di medio e lungo termine nell'immediato la Russia non è che deve interrompere la guerra perché sono state messe queste sanzioni però quando dice il rublo si è svalutato sono stati costretti ad alzare gli interessi quelli sono già immediati certo quello c'è un effetto sull'economia avrà un rallentamento sull'economia però tra il rallentamento dell'economia e lo sforzo militare c'è una bella differenza l'obiettivo delle sanzioni non si può pensare con le sanzioni di rallentare lo sforzo militare nel breve periodo fossero mantenute per un lungo tempo allora l'economia viene danneggiata in generale allora si avrebbero effetti Alessandro Di Battista che ne pensa intanto benvenuto professor Francesco Brocco lo virologo parleremo anche di quello naturalmente non scompare il conto delle conseguenze negative al punto di vista economico e anche il nostro paese pensate anche all'inflazione come stia galoppando ora dal punto di vista storico io vorrei chiedervi quando nella storia delle sanzioni siano state capaci di rovesciare un governo o un regime o di porre fine a una guerra rapidamente l'Iran è sotto sanzione a 43 anni dalla rivoluzione comunista tra l'altro è sotto sanzione anche è bloccato il codice Swift e alle ultime elezioni Rouhani moderato comunque l'ala moderata ha perso e le sanzioni sono state utilizzate dalla frangia più estremista per vincere le elezioni il Venezuela è sotto sanzione tra l'altro non per questioni legate ai diritti umani questa è la verità storica ma per aver nazionalizzato l'industria petrolifera e tuttora c'è il governo Maduro la Russia è stata sotto sanzioni più blande per l'amor di Dio dal 2014 dopo la crisi del Donbass Cuba è sotto un embargo per me tra l'altro vergognosamente illegale da 63-64 anni e tuttora è al governo gli stessi che stanno al governo negli ultimi 60 anni allora io ho visto con i miei occhi anche in Iran spesso e volentieri governanti utilizzare il tema delle sanzioni per rafforzarsi internamente per dire alla pubblica opinione ce l'hanno tutti con noi e se l'obiettivo oggi è quello di spostare una parte di pubblica opinione contro Putin io sarei soltanto cauto anche in virtù del fatto dottor Cottarelli che obiettivamente è evidente ci sono le importazioni di gas nell'ultimo anno le imprese italiane soprattutto la piccola e mediimpresa del nord ha esportato in Russia circa 10 miliardi di euro io vorrei soltanto che si comprendesse che sanzioni oggi alla Russia non colpiscono gli Stati Uniti d'America anzi potrebbero avere il vantaggio di vendere il gas di scisto gas liquido tra l'altro molto molto negativo al puttista ambientale all'Europa all'Italia e alla Germania colpiscono senz'altro la Germania la quale per oggi che sta ottenendo dal puttista politico la possibilità di riarmarsi e tornare adesso a una grande potenza militare cosa che non è stata in questi anni dopo la seconda guerra mondiale in poi la Francia non è colpita perché ha una diciamo autosufficienza energetica in virtù del nucleare eccetera eccetera io credo che con queste decisioni la guerra non si fa finire nel breve ma dal punto di vista economico ancora di più in virtù dopo una fase pandemica quelli che saremo maggiormente colpiti siamo noi questo è il mio pensiero l'ho già detto io l'ho pure detto io che non c'è un impatto immediato sulla guerra che ci sia un costo per il paese non c'è dubbio dal punto di vista economico è anche vero che ci può essere questo effetto di rinsaldare della nazione è colpa degli altri i guai economici dell'Iran si dice non sono dovuti al fatto che l'Iran ha un'economia che comunque era disastrosa si dice è colpa degli altri quindi non c'è questo effetto il punto fondamentale è ma che facevamo allora non facevamo niente ce ne stavamo zitti serve comunque per fare una pressione per dare un segnale posto che mettere le armi in campo dice Biden è terza guerra mondiale che facciamo mettiamo le armi in campo allora rispetto alle armi in campo comunque qualcosa fa con lui non si fa niente nel senso che no però perdonatemi no nel senso è corretto tu dici delle cose si possono avere idee io non mi sono permesso di dire le vostre posizioni siano disperate no scusa adesso non non strumentalizzare tutte le cose ho detto che io ho detto che è disperata perché senza speranza presuppone che non si possa fare nulla non è vero allora che cosa si deve fare prendere atto di quello che c'è invece non è così secondo me le sanzioni avranno degli effetti nel tempo medio ma il messaggio che si dà è di una forza rilevante ho parlato con un imprenditore che ha una fabbrica in Russia e Medvede nei giorni scorsi ha detto ma vi requisiremo tutto cioè quindi sono disperati questo è il punto vero perché vuol dire che la conclusione di questo ragionamento è che loro affamano i russi i loro abitanti ed è una cosa che non si possono permettere all'infinito allora Marta se ne ha finito alle opoli città della linea ora arriviamo da lei di Battista Massolo bisogna anche capire che popolo sono attenzione è un popolo che ha avuto 23 milioni di morti nella seconda guerra mondiale hanno resistito all'assedio di Leningrado all'assedio di Stalingrado credo come pochi altri popoli avrebbero resistito al mondo questo anche da tenere in considerazione se poi attenzione le sanzioni prima l'ha detto l'ambasciatore è un passaggio secondo me molto interessante servono nel breve a sedersi intorno al tavolo negoziale con Putin e poter contrattare quindi evidentemente la fuoriuscita comunque la cancellazione di tali sanzioni per poter ottenere e non mettere Putin in una condizione di forza maggiore io questo ragionamento lo posso accettare ed è più saggio se poi però come ha detto prima il ministro Di Maio l'idea delle sanzioni o come dice Letta è quello di distruggere l'economia russa oppure far piangere Putin con tutte queste dichiarazioni io ripeto ci andrei molto più cauto ma questo Tabacci non è una posizione disperata perché proporre immediatamente il fatto che non è vero perché io sono convinto di quello che ho detto a poc'anzi appunto di assegnare un ruolo di mediazione importantissimo da parte dell'Unione Europea alla Merkel perché sono convinto che ce la potrebbe fare gli oligarchi non stanno ridendo non ho capito gli oligarchi non stanno ridendo ma non ho detto questo se perfino la Svizzera si è mossa perfino la Svizzera si è mossa Tabacci posso invidio la sua sicurezza posso dire solo questo posso prendere sempre le cose dal versante diciamo negativo ma in realtà mi dica quando hanno funzionato c'è una mobilitazione nel mondo rispetto a questo fatto senza che porterà delle reazioni importanti senza altro però nessun paese soffrirà come l'Italia a parte la Russia e l'Ucraina ovviamente soffre per altre ragioni molto più importanti io voglio dire che dal punto di vista dei paesi occidentali nessun paese soffrirà come l'Italia e questo Tabacci chi governa e chi è pagato dal popolo per governare ha il dovere di tenerlo in considerazione ancora di più in un momento post-pandemico in cui i conti correnti degli italiani sono già piuttosto prosciugati questo è un dovere secondo me lo stiamo salvaguardando gli italiani pensando la prospettiva perché questa qui è una battaglia di civiltà è una battaglia di libertà bisogna sapere se vince il rapporto al 1952 se avessero ascoltato De Gasperi con la CET Comunità Europea di Difesa sai come saremmo a questo punto? Saremmo a questo punto che Francia Germania e Italia spendono di più del militare spendono 134 miliardi base 2020 2020 i russi spendono 60 miliardi quindi il problema è che un esercito europeo ha una prospettiva di mettere in condizioni Putin o chi per lui non ci dovrà ragionare con la deterrenza voleva farle un'obiezione l'ambasciatore ma solo le chiedo altri due minuti anche se siamo andati ben oltre il tempo che avevamo concordato poi comunque continueremo con lo studio a parlare soprattutto del costo per l'Italia ambasciatore prego io volevo solo dire che Putin non si ferma e usa l'Ucraina usa gli ucraini per massimizzare la sua potenza e il suo disegno di ridisegnare l'ordine globale come se la guerra fredda l'avesse vinta invece che averla persa l'Unione Sovietica questo non glielo si può consentire allora quello che bisogna fare non glielo si può consentire perché siamo occidentali perché non possiamo far finta di non aver vinto la guerra fredda perché poi le conseguenze potrebbero essere anche abbastanza drammatiche si parlava prima dell'alleanza degli autocrati allora bisogna rendergli la vita cioè se noi scompariamo dal panorama internazionale in qualità di occidentali in qualità di difensori delle libertà e delle democrazie io credo avanza una grandissima parte di mondo io credo che la vita la vita quotidiana di noi che viviamo in Europa occidentale non solo si complica mettiamola in questi termini sa cos'è che noi ci siamo dimenticati forse che tra le varie leve da muovere c'è anche la violenza noi muoviamo l'economia questo è tutto un altro discorso nel senso che noi abbiamo pensato e ce l'ha ricordato Putin noi abbiamo pensato che la pace fosse in Europa qualche cosa che potevamo acquisire per dare come dato acquisito in realtà Putin ci ha detto che la pace va negoziata che la pace non è evidente e usiamo tutti i mezzi per complicargli la vita per complicargli la vita flash la guerra in Europa è già tornata e tornò nel 99 con bombardamenti nato su Belgrado anche quelli per quanto mi riguarda ugualmente illegali io penso di poter condannare la guerra di oggi perché condannai anche le guerre precedenti due sul fatto che non ci sia un esercito europeo tabbacci sa perfettamente che gli americani si sono sempre opposti alla creazione dell'esercito europeo ma io parlo dell'Europa non degli americani purtroppo questo è il punto molto centrale dell'autonomia politica europea ma l'Europa deve diventare protagonista nello scacchiere mondiale iniziamo non prendendo ordine degli americani terza ed ultima cosa io comprendo le motivazioni politiche evidentemente anche della corsa ai nuovi armamenti in una politica di nuova guerra fredda ribadisco che in un momento in cui c'è un dramma legato al clima cambiamenti climatici la transizione ecologica dare il messaggio di fior di investimenti appunto nel settore militare per me comunque è antistorico allora Marta Serafini da Leopoli grazie Di Battista per essere stato con noi